Tre ragazzi si apprestano a fare un colloquio di lavoro, allora stanno nel corridoio in attesa di fare il colloquio. Entra il primo, c'era il direttore dell'azienda a fare i colloqui, gli dice senti che cosa avete di strano in me? Direttore a me sembra che lei non ha le orecchie, non vorrei insistere, ma io non ho le orecchie. E fuori, fuori salame, somaro, e non farti vedere più. E se ne va il primo, entra il secondo. Senti un po', ma dimmi che cosa avete di strano in me? Capo, a me sembra che lei non ha le orecchie, io vorrei insistere, ma sembra che lei non... Io non ho le orecchie, anche tu, anche tu, salame, fuori balordo. E non farti vedere più. Mentre se ne stava andando il secondo, uscendo, c'era il terzo ragazzo in attesa. Gli fa come è andata, e come è andata, è andata male. Guarda, andata, guarda, non gli dica che non ha le orecchie, perché sennò qui se ti caccia fuori. Ti caccia fuori. Grazie, grazie che me l'hai detto. Allora entra il terzo. Il direttore fa, lei, che cosa avete di strano in me? Direttore, ma che porti le lenti a contatto? Bravo, bravo! Come hai fatto a indovinare? Perché se tenevi le orecchie, ti mettivi gli occhiali. Grazie.